dai cancello non ti fermare in mezzo il peso non ti fermare in mezzo e era già lì l'altra volta e 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 allarga le gambe e e e e e in giro con le ginocchia chiuse e e e e e e e e quello lì non si può tirar giù e questo si può tirare giù è quello lì che non viene giù questo sì forse e e e e e ciao perché non riesco a no ce l'ho al seghettino ma figaro ci vuole una vita a tagliare l'unica cosa che si può fare è buttarlo di là sì ma dove è? è piantato dentro non vedi? vai in là ma fai capire non tagliarlo via no no vieni giù a piedi di lì sì sì ma figurati si ma figurati si ma figurati ma non no non Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.